Il problema è completamente complesso, nel senso che riguarda un problema ormai vecchio di credo vent'anni, le prime delibere della giunta regionale dove vediamo delle difficoltà nel reperire il personale, in particolare all'inizio per il 118, neanche tanto per il pronto soccorso, risalgono al 2001. Poi dopo c'è stata una sottovalutazione, se non addirittura proprio non prendere il problema con la dovuta attenzione. Oggi noi assistiamo all'uscita di medici dal servizio pubblico, quindi medici che sono o dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario, che escono per andare a lavorare con queste cooperative, questi soggetti. Che cosa cambia sostanzialmente per il medico? Cambia non avere un direttore, non avere un primario. Quindi essere un professionista autonomo. Questa è una cosa che viene molto sentita nella categoria, cioè l'idea di uscire da una logica, cioè rientrare in una logica professionale che non è una logica subordinata. Questo è un punto che vediamo crescere sempre di più, anche se non c'è una consapevolezza probabilmente omogenea di questo aspetto che diciamo è più psicologico, mettiamola così. Quindi da un lato c'è questo, quindi autonomia rispetto a subordinazione. Dall'altro c'è un tema stipendiale. Nel senso che molti con l'incremento dell'età pensionabile, con tutti i problemi che noi ben sappiamo, preferiscono dire, bene, lavoro, guadagno subito, tanto lavoro, tanto guadagno. E sappiamo bene, soprattutto per il personale dipendente, la quantità, le migliaia, forse milioni di ore che sono state, tra virgolette, regalate, nel senso che non sono state retribuite negli straordinari a cui sono stati sottoposti i medici dipendenti. E quindi questi medici dicono, bene, io vado con queste cooperative, vengo pagato in base alle ore che svolgo di attività e il pagamento è un pagamento molto più interessante. E su questo, attenzione, cioè spesso non cambia tantissimo il costo per l'azienda. Perché leggo articoli, sento interviste in cui si parla di costi doppi, tripli, quintupli. Allora, se anche un professionista costa 100 euro l'ora, è un costo a partita IVA per beni e servizi, ok? E un lavoratore dipendente spesso ne costa anche di più. Il problema è che nella busta paga del lavoratore ne arrivano pochissimi, perché tutte le trattenute contributive per la pensione, eccetera, e tutti gli oneri riflessi, TFR, tredicesima, eccetera, eccetera, sono tutti tenuti in un cassetto a parte. Quindi diciamo che a parità di spesa che l'azienda sanitaria ha, in un caso il professionista sul conto corrente ha di più, nell'altro di meno. Poi, nella realtà dei fatti, uno ha più contributi versati rispetto all'altro, li ha versati all'Inps invece che alla cassa medici, eccetera, eccetera. Però diciamo che il tema è importante, perché mette in evidenza la, come dire, inadeguatezza degli attuali livelli stipendiali retributivi del personale medico. E li mette in evidenza perché, a parità di spesa per l'azienda, in alcuni casi, ovviamente, uno preferisce il reddito da lavoratore autonomo, che se ci pensiamo è l'esatto contrario di quello che per tanti anni in questo Paese si è visto, non il lavoratore pubblico a tempo indeterminato. Il dirigente pubblico a tempo indeterminato era il non plus ultra a cui tutti volevano arrivare. Adesso assistiamo, soprattutto in emergenza urgenza, al contrario. Cioè, un'uscita e addirittura medici che si sono specializzati in medicina di emergenza urgenza, medici che hanno fatto quindi la scuola di specializzazione, che sono stati assunti a tempo indeterminato e che escono per utilizzare quest'altro meccanismo. E evitare in questo modo anche le incompatibilità. Perché c'è un problema anche di incompatibilità. Cioè, questi medici che cosa possono fare? Vorrebbero fare tante altre cose, oltre all'attività lavorativa principale, magari avere un ambulatorio, avere altri sfoghi, tra virgolette, professionali, o costruire altri percorsi paralleli, perché non si sta mai. Magari l'emergenza urgenza può essere anche una strada che non è percorribile fino a 70 anni, con le notti festive, eccetera, eccetera. E questo oggi è bloccato, è inibito. E quindi questi medici poi scelgono di rimanere, tra virgolette, nella libertà della libera professione e di costruire percorsi anche alternativi. Allora, invece, in questo caso mi ha risposto nei riguardi del professionista, quindi del medico. Per quello che riguarda invece le ASL e chi assume attraverso questi criteri, è proprio sicuro di avere la persona giusta, la qualità giusta della professione? Cioè, ci sono dei rischi? Allora, da un punto di vista tecnico non c'è una selezione che noi invece facciamo nel servizio pubblico o tramite i concorsi pubblici, nel caso del lavoratore dipendente, o tramite le graduatorie della medicina convenzionata, che sono tra l'altro anche questi degli incarichi libero-professionali parasubordinati e che quindi avrebbero già potuto risolvere ad inizio questo problema di esternalizzazione delle cooperative. Il punto è che ovviamente nel momento in cui tu appalti di servizio a un esterno, lui ti manda chi ha in quel momento e sostanzialmente l'azienda ha praticamente nessun potere, l'abbiamo sentito anche nelle dichiarazioni di vari dirigenti, nei servizi tv, che dicono che non ha nessun potere nel decidere chi viene, chi non viene, eccetera, e quindi questo filtro tra virgolette all'inizio rispetto a criteri, selezione, eccetera, eccetera, viene meno sostanzialmente. Quindi la gran parte dei professionisti sono professionisti che purtroppo sono usciti dal servizio pubblico, per cui sono comunque preparati e hanno, però non c'è una garanzia, ecco, a priori, non c'è una garanzia a priori, a meno che il bando non preveda determinati criteri stringenti, eccetera, ovviamente qui ogni situazione specifica è un caso diverso. Però, insomma, diciamo che ovviamente quando tu hai del personale così che viene utilizzato oggi c'è, domani non c'è, non c'è una strutturazione, c'è anche un problema di prospettiva, cioè che cosa costruiamo come modello di sistema sanitario, vogliamo costruire un modello a gettone dove uno oggi c'è, domani non c'è, qual è la progettualità dell'equip di quella specifica, di quello specifico presidio, di quella specifica area territoriale, così non si costruisce fondamentalmente nulla, ok? E quindi rimane comunque da un punto di vista qualitativo un problema, un problema non tanto e non necessariamente per la preparazione del professionista che arriva, ma un problema più in generale di sistema, perché tu puoi costruire qualcosa se hai un organico stabile, se hai delle persone su cui puoi contare, che conoscono i percorsi, conoscono la storia di un sistema, ci sono, come dire, integrati all'interno. Ed è questo il motivo per cui, per esempio, dal mio punto di vista, il ragionamento più sensato che si può fare è potenziare al massimo gli strumenti che già esistono nel Servizio Sanitario Nazionale, che sono le convenzioni. Cioè, al di là del lavoro dipendente, se proprio il lavoro dipendente non lo si trova, per tutti i motivi che vi ho in qualche modo illustrato, allora bisogna puntare su degli strumenti alternativi che esistono. Il problema è che in tutti questi anni questi strumenti alternativi si è tentato di utilizzarli come surrogati del lavoro dipendente, facendoli, tra virgolette, diventare sempre più dipendenti e sempre meno autonomi. E questo, ovviamente, che cosa comporta? Comporta lo stesso fenomeno, cioè l'esplosione verso strutture di lavoro alternative come quella della cooperativa.